Ravenna Calcio, stipendi non pagati. Sono molti ormai giocatori ad avere necessità di trovare un nuovo alloggio non riuscendo più a pagare l'affitto di casa. Ultimo caso eclatante è quello del portiere Valentino Leonardi, costretto a lasciare la squadra. L'associazione Noi Giallorossi, oltre a proporre una raccolta fondi, ha avanzato la proposta di trovare un alloggio, magari gratuito o scontato, per tutti quei giocatori in difficoltà economica. Come reagisce la cittadinanza di fronte a questa iniziativa? Per un periodo breve sarei anche favorevole, che poi dopo si trovi una sistemazione definitiva per queste persone. Questi ragazzi che sono giovani, per beni italiani, che si devono costruire un posto nella società, quindi io sono perfettamente d'accordo. Ci sono 5500 appartamenti vuoti a Ravenna, piuttosto magari, anche se non proprio gratis, che il comune intervenisse con degli aiuti, qualcosa del genere, io sono d'accordo. Ma io sarei anche favorevole, però bisognerebbe che invece di trovare solo la casa, bisognerebbe di dargli anche gli stipendi, perché non solo giocano con il cuore, ma è anche un lavoro per loro. Chi invece la pensa al contrario di lei, chi invece è contrario, dice, siccome i giocatori delle altre squadre che giocano come Ravenna in Serie D, alla mattina vanno a lavorare, ha anche un lavoro part time, alla sera si allenano e poi la domenica fanno la partita. Perché i giocatori di Ravenna non fanno la stessa cosa? Io ripeto, di calcio non me ne intendo, però finché è una cosa a livello amatoriale, a livello così, è un conto. Se uno lo fa proprio da professionista, non credo che le due cose possano convivere. Penso che se uno fa il giocatore di calcio, di professione, abbia diritto ad allenarsi dalla mattina alla sera, di seguire la sua squadra, con tutti gli impegni che la cosa, credo, perché ripeto, non me ne intendo, compete. Oggi come oggi il calcio non c'è solo il problema di Ravenna, ma è a livello nazionale, è un grosso problema e la politica deve rimettere nei canali giusti questo sport, poiché diciamo lo sport è un'industria, perché quando vediamo 50.000, 80.000 persone che vanno nella partita, quello è come una grossa industria, ma uno sport non deve succedere come abbiamo visto ultimamente con queste periodi truccate e tutti questi scandali, perché è chiaro che dopo uno sport va in decadenza. Io mi auguro che questo momento, diciamo, di crisi, attraverso la politica e i consigli comunali, possa essere superato. Ma io non sono né contrario né favorevole, io dico che il gioco del calcio è una cosa molto importante per la città, però in effetti una persona che ha un appartamento, due appartamenti, quelli che ha due o tre appartamenti, credo che debba avere poi un certo ricavo e questi ricavi sarebbe meglio darli in beneficenza, piuttosto che a giocatori di calcio, io credo, perché se dobbiamo poi alla fine rimetterci o dobbiamo fare uno sconto, questa è una cosa che si può anche fare per il bene della città, ma io credo che dover dare, fare un'operazione di questo tipo di beneficenza, ci sono altri tipi di beneficenza che secondo me sono molto più intelligenti e molto più giusti. Di lei dice, se c'è qualcuno che deve trovare degli appartamenti gratis per i giocatori, deve essere il comune, magari il comune stesso pagarli. Sì, gli appartamenti, io so che ce ne sono tanti, tanti nuovi, diciamo, che sono lì, sfitti, che non ce ne sono. A Libri, se c'è questo problema di qualche giocatore che queste cose qui, se faccia avanti il Consiglio Comunale, ne parliamo. Federico Lega per Ravenna Web TV